L'Ordine dei Medici di Ragusa è vicino alle famiglie terremotate allo centro Italia. Una consistente donazione è stata infatti offerta come contributo per il ripristino della regolarità dell'assistenza sanitaria proprio nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Non solo, l'Ordine dei Medici ha inviato anche una lettera a medici odontoiati della provincia di Ragusa in cui invita, a chi lo desidera, a donare un contributo economico a favore delle migliaia di persone che hanno subito gravi perdite a causa del devastante terremoto. Per la precisione, la Federazione Nazionale ha attivato un apposito contocorrente verso l'istituto bancario Unicredit per la raccolta fondi. Siamo solidali e vicini con gli italiani che stanno vivendo questa tragedia, rimarcano dall'Ordine dei Medici di Ragusa, e con questa donazione vogliamo dare un aiuto, seppur modesta, alle popolazioni colpite dal sisma. In orte il Presidente all'Ordine, Salvatore Damanti, ha aggiunto che si sente di rappresentare le richieste di molti colleghi, appunto, di essere d'aiuto in qualche modo in questa difficile e quanto tragica situazione. Grazie a tutti.